Buongiorno e bentornati con l'informazione di Telefriuli con il nostro Tg delle 12.30. Il Premier Giuseppe Conte sta parlando ora alla Camera per ultimo appello ai responsabili o costruttori parlamentari al di fuori della maggioranza sui quali il Governo possa contare per restare in piedi dopo l'uscita di scena di Italia Viva. Domani sarà la volta del Senato. Il Presidente del Consiglio ha detto ho fiducia nei parlamentari e nel Paese. Al termine dell'intervento del Premier ci sarà un dibattito che proseguirà fino alle 15.30 quando la seduta sarà sospesa per sanificare l'Aula fino alle 17 quando il Presidente del Consiglio otterrà la propria replica. Domani Conte è atteso al Senato. A Conte servirebbe tra la dozzina e la ventina di costruttori. Anche se sui numeri non vi sono ancora certezze restano invece diversi dubbi. I principali interrogativi riguarderebbero il Senato, il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle continuano a ribadire la propria contrarietà al ritorno. In maggioranza di Italia Viva nonostante Matteo Renzi si sia detto comunque pronto a discutere con il Premier, con Zigaretti, con chiunque ha precisato. Purché si mettano al centro le cose da fare. Pronta la replica del segretario del PD, Renzi ha compiuto un errore. La porta è aperta alle persone che vogliono dare speranza al Paese e votano la fiducia al Governo, tra i senatori dell'opposizione che sarebbero valutando il passaggio tra i costruttori. C'è la tristina Laura Stabile di Forza Italia, una riflessione che ha generato questa qualche mal di pancia nel partito di Berlusconi. In Friuli, Venezia Giulia, e parliamo adesso di vaccini, saranno riaperte infatti a febbraio le agende per le prenotazioni del vaccino anti-Covid. L'effetto del dimezzamento delle consegne di dosi nella nostra regione da parte di Pfizer. La campagna da oggi procede solo per coloro per i quali è prevista la seconda somministrazione. Il servizio. Il dimezzamento delle dosi in consegna da parte di Pfizer ha costretto il Friuli Venezia Giulia, seconda regione più penalizzata ad Italia dal ritardo della casa farmaceutica, a rivedere il piano delle vaccinazioni. Oggi tutto procede come da programma, con l'inoculazione della seconda dose per coloro che hanno ricevuto la prima il 27 dicembre in occasione del Vax Day a Palmanova. Da domani la campagna procede solo per coloro che hanno in programma la somministrazione della seconda dose, mentre verranno posticipate le vaccinazioni di coloro che si sottopongono per la prima volta fino a che non ci saranno certezze. Le agende, ha fatto sapere il vicepresidente della regione con delega alla salute Riccardo Riccardi, saranno riaperte per le nuove richieste da febbraio. Per adesso in realtà sarà un taglio alla consegna che non so quando verrà recuperato. Il Friuli Venezia Giulia oltretutto è tra le regioni più colpite insieme a Trentino Alto Adige e Veneto per questo taglio, perché noi avremo un taglio questa settimana del 54% delle dosi. Questo penso che sia gravissimo, soprattutto perché stiamo entrando nella settimana delle seconde somministrazioni. Abbiamo fatto in modo massiccio la campagna vaccinale, però sempre con un principio di precauzione, perché sapendo, anche avendo visto in passato i ritardi di consegna, che potevano esserci dei problemi. C'è una riduzione di oltre il 50% per questa settimana e c'è un'incertezza rispetto a quello che accadrà la prossima, quindi è chiaro che noi dobbiamo lavorare per garantire la seconda dose e fino a quando non c'è una certezza probabilmente saremo costretti ad allungare le agende. In questo senso si punta molto ovviamente sull'AstraZeneca che potrebbe semplificare e la cui fornitura di dosi dovrebbe essere maggiore rispetto agli altri vaccini. Tutti i nuovi vaccini che verranno resi disponibili ci aiuteranno in questa battaglia, però prima bisogna che vengano autorizzati e poi bisogna averli. L'Austria ha deciso di prolungare il suo terzo lockdown totale. Fino al 7 febbraio resteranno aperti e sono i servizi ritenuti essenziali. Alcune misure sono state anche inasprite a spingere il cancelliere Sebastiano Curza ad adottare. Il provvedimento è stata la cosiddetta variante inglese del Covid. Le misure restrittive erano inizialmente previste fino al 24 gennaio. Invece si proseguirà fino al 7 febbraio e dal 24 gennaio sarà anche imposto l'uso di mascherine FFP2 nei negozi e sui mezzi pubblici, mentre il distanziamento fisico è aumentato a 2 metri. L'Austria che conta 8,9 milioni di abitanti, fino ad oggi è registrato 39 mila contagi e più di 7 mila vittime. Rientrano oggi a scuola in presenza oltre 640 mila studenti delle superiori in tutta Italia. Sono quelli di Lazio, Molise, Piemonte ed Emilia, Romagna. I ragazzi del Friuli Venezia Giulia dovrebbero invece attendere il primo febbraio, forse come i colleghi appunto di Sardegna, Veneto, Calabria, Basilicata e forse Marche. Sono invece già tornati in classe al 50% gli studenti delle superiori di Toscana, Valle d'Aosta, Abruzzo, Trentino. In Friuli Venezia Giulia è in vigore la seconda ordinanza firmata dal presidente Fedriga, il quale ha confermato la data del primo febbraio come quella per il ritorno in classe. Ieri intanto il CTS è riunito d'urgenza dopo la richiesta del governo di un'indicazione sul ritorno in aula dei ragazzi, si è sancito che le scuole superiori possono tornare in presenza nella misura del 50% e fino al 75% come previsto dal DPCM del 14 gennaio. Per gli esperti, se qualche presidente di regione decidesse diversamente, se ne assumerà la responsabilità. Le valutazioni del CTS rappresentano una guida chiara che mi auguro possa garantire a scuole e studenti la certezza di cui hanno bisogno, ha detto la ministra dell'istruzione Lucia Azzolina. Il CTS rientra in classe, è un atto di responsabilità nei confronti dei nostri giovani. E passiamo alla cronaca. La Polizia di Stato di Pordenone ha sgominato una centrale di spaccio, 10 kg di droga sequestrati, un arresto al servizio di Uber Londero. La sua casa era una vera e propria centrale per lo spaccio. Per questo è stato arrestato a Pordenone un 43enne marocchino regolarmente residente in Italia. Era in possesso di 10 kg di hashish e 100 g di cocaina, del valore di 250.000 euro. È successo venerdì 15 gennaio, quando una pattuglia della squadra mobile pordenonese ha notato in zona fiera una Opel Astra. Fermato il veicolo, alla sua guida c'era il cittadino del Marocco, residente in città e gravato da numerosi precedenti in materia di stupefacenti. Dopo che l'uomo non ha saputo dare spiegazioni per la sua presenza in strada, gli agenti hanno perquisito la sua persona e l'autovettura. E così, sotto il cofano, nascosti tra le parti meccaniche del motore, sono stati trovati 5 involucri di cellophane, contenenti ciascuno 10 pacchetti di una sostanza marrone, per un peso complessivo di 5 kg, risultata hashish al narcotest preliminare. Data la flagranza di reato, la polizia ha perquisito anche l'abitazione del 43enne, dove sono stati trovati 100 ovuli di hashish, probabilmente introdotti in Italia da corrieri, che li avevano precedentemente ingoiati, per un peso di 1 kg, e un etto di cocaina, in parte pronta per lo spaccio, in parte ancora in sasso. Inoltre, sono stati recuperati un bilancino di precisione, uno sfollagente telescopico di metallo e due bombolette di gas urticante. Avendo la certezza di essere in presenza di una centrale dello spaccio, gli uomini della questura pordenonese hanno perquisito anche un terreno adiacente al giardino della casa. Qui, all'interno di un tubo di cemento, è stato trovato un sacco, con dentro 100 ovuli e 23 panetti di hashish, per un peso complessivo di 3 kg. L'uomo, in possesso di regolare permesso di soggiorno, è stato quindi arrestato per detenzione di stupefacente a fini di spaccio e portato nel carcere di Pordenone. Nel complesso è stato calcolato che dal materiale sequestrato si sarebbero potute ricavare 10.000 dosi di hashish e 250 di cocaina, per un valore commerciale al dettaglio di 250.000 euro. E non è una fake news quella dell'avvistamento di un orso. Nei giorni scorsi tra Sagrado e Peteano nell'Izontino a chiamare il 9-112 nella giornata di mercoledì, infatti, transitati poi alla sala operativa della caserma dei carabinieri di Gradisca di Sonzo, sono stati effettivamente due cittadini. Prima una donna e quindi un fattorino che si è visto attraversare la strada dall'orso vicino al monumento che ricorda la strage in direzione Sagrado. Giunti sul posto i militari dell'arma non hanno rintracciato il mammifero che stando alle parole dell'addetto di consegna alle pizze stava per travolgerlo rischiando di farlo cadere dallo scooter. Spaventato il fattorino che ha ripetuto più volte ai carabinieri di non trattarsi di uno scherzo, ha preso molta paura e sono stati diversi gli incidenti con gli animali selvatici questa notte in Friuli Venezia Giulia. Il primo a Venzone, tra carni e Venzone in particolare, dove il conducente di una vettura si è visto improvvisamente attraversare la strada da un cervo che è morto. Per fortuna nessuna conseguenza per il conducente. Poi anche un investimento a lauco sulla strada della Valdegano coinvolta a una donna carneca di 23 anni di Ovaro, anche in questo caso fortunatamente non è rimasta ferita dopo l'impatto con un ungulato e poi il terzo a Tarvisio è sbucato improvvisamente da un cervo, siamo in via Friuli, danni alla vettura, l'animale è fuggito, ferito nei boschi, sono numerosi gli incidenti di questo tipo. E poi passiamo alla disubbedienza civile che ha caratterizzato questo fine settimana diversi ristoratori, alcuni sono stati multati, in particolare il gestore di un ristorante di Lime è stato denunciato mentre una dozzina di clienti che si trovavano all'interno dei locali sono stati multati, quindi sono state elevate sanzioni amministrative, il servizio. Hanno continuato la disubbedienza civile tenendo aperto il loro locale al pubblico in violazione delle normative anti-coronavirus. Lo avevano fatto sabato sera e hanno ripetuto la loro protesta anche ieri sera. Inizialmente erano stati solo sanzionati dopo l'intervento dei militari dell'arma della compagnia di Udine e della compagnia di Cividale del Friuli. Ieri sera invece sono scattate una denuncia e sanzioni amministrative anche per i clienti che si trovavano all'interno. Si tratta di un agriturismo di Rive d'Arcano per cui è stata proposta la chiusura per cinque giorni e dove sono stati multati una dozzina di clienti che si trovavano all'interno in violazione della normativa per il contenimento del Covid-19 e di un agriturismo di Nimis dove il titolare si è rifiutato di chiudere ed è stato deferito in stato di libertà. Sanzionati in quest'ultimo caso anche alcuni pochi clienti che si trovavano all'interno. Nel fine settimana sono stati sanzionati in tutto cinque ristoranti quattro dei quali in provincia di Udine. I carabinieri della stazione di San Giorgio di Onogaro hanno sanzionato nel fine settimana, in particolare sabato, il titolare del bar e della cittadina portuale per aver consentito la permanenza di alcuni clienti all'interno del locale senza rispettare il distanziamento sociale. È stata disposta, anzi proposta, la sanzione accessoria della chiusura del locale per cinque giorni. Dopo decenni di incuria tornerà al suo originario splendore il parco storico di Villa Moretti nella Perla del Friuli grazie ad un accordo con la regione e con il comune. Infatti lo splendido parco sarà nuovamente fruibile dalle prossime settimane. Sentiamo. Torna al suo originario splendore il parco di Villa Moretti a Tarcento. Sono in corso infatti i lavori di pulizia della storica area verde ai piedi del Castellaccio. Sono state tagliate 40 piante a rischio schianto o malate, in particolare gli abeti rossi attaccati dal vostrico. Alcuni alberi erano stati danneggiati dal nubifraggio del 2017. Il progetto di recupero è stato voluto dall'amministrazione comunale che ha chiesto e ottenuto dalla regione l'intervento di pulizia e messa in sicurezza dopo decenni di incuria. E la regione infatti, tramite un protocollo siglato con l'assessore alle risorse forestali Stefano Zanier a eseguire in autonomia l'intervento. La seconda parte del progetto per questa zona spiega il sindaco Mauro Stecati riguarderà la villa che necessita di interventi strutturali per quanto riguarda la messa a norma sotto il profilo della sicurezza sismica e di interventi di riparazione delle coperture. Ed era l'ultima notizia per il nostro Tg delle 12.30. Vi ricordo tra pochi minuti l'appuntamento con approfondimenti dirette dal territorio con A voi la linea. Grazie per la visione!